Il Comune di Pesce ha attivato una serie di aiuti dedicati alle famiglie in difficoltà economica e in conseguenza anche del coronavirus. Si va dai buoni spesa, i contributi per l'affitto, fino all'apertura di una mensa che distribuirà pranzi e cene ad una trentina di famiglie che proprio a causa del Covid hanno perso il reddito e che si trovano ora in grave disagio economico. Abbiamo attivato nuove iniziative per sostenere le famiglie, siamo in emergenza Covid, abbiamo il centro operativo comunale aperto e con l'assessore al sociale abbiamo deciso di intervenire verso le famiglie, in particolare con i buoni spesa, con i buoni alimentari, la mensa scolastica che dà da mangiare pranzo e cena a circa una trentina di famiglie, un contributo sugli affitti e un contributo sulle bollette. Quindi da domani aprirà l'ufficio sociale con una specie di meccanismo di contatto diretto con i cittadini, potranno chiamare e soprattutto potranno avere degli appuntamenti personalizzati proprio per aiutare le persone. Noi stiamo investendo sulle famiglie, il momento è difficile, proprio per questo ci investiamo dando il supporto e cercando di portare tutta la comunità avanti, tutta insieme.